Sette misure cautelari, cinque in carcere e due domiciliari. I carabinieri del reparto operativo di Agrigento con i colleghi della tenenza di Favara hanno eseguito la notte di Natale l'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Palermo, Vilma Mazzara, su richiesta della locale direzione distretto all'antimafia. In carcere sono finiti i favaresi Carmelo Fallea, 41 anni, Gioacchino Alba, 49 anni, residente a Lieggi e Carmelo Vaccaro, 38 anni. Stefano Sacco, 52 anni di Porta Empedocle e Calogero Presti, 43 anni di Agrigento. Ai domiciliari invece Gaspari Indelicato, 34 anni e Rani al Musaid, 31 anni. L'intera storia rappresenta una vicenda complicata che nasce con l'arresto di Calogero Presti nel 2014. L'uomo, impiegato di Favara, venne arrestato dai carabinieri, i quali, dopo averlo fermato per un regolare controllo alla circolazione stradale, avendolo notato in atteggiamento sospetto, hanno approfondito le verifiche, procedendo prima a perquisizione personale, successivamente stesa ai luoghi dove normalmente l'uomo aveva la propria dimora. Infatti, all'interno di una casa rurale situata in contrada a Scintillia, agro di Favara, i carabinieri hanno rinvenuto quasi 20 chili di hashish, accuratamente occultati in cucina. Presti venne condannata a due anni e undici mesi ed era stato scarcerato appena il mese scorso. Da quell'arresto e dal rinvenimento della droga si è dipanata l'indagine che ha avuto l'epilogo l'altra notte con i provvedimenti di cattura. Parecchi sono gli spunti investigativi che portano lontano. I carabinieri stanno verificando alcune situazioni, a cominciare dalla posizione di Giacchino Alba, favarese residente a Lieggi, dove nel settembre scorso, nel corso di un regolamento di conti maturato nel mondo del traffico di droga, venne assassinato Mario Jakelic e ferito gravemente il favarese Maurizio Di Stefano, inteso furia. E successivamente a Favara, quasi un mese dopo, venne assassinato l'empedoclino Carmelo Ciffa. Gli interrogatori dagli arrestati sono cominciati nella giornata di oggi, davanti al GIP del Tribunale di Agrigento Alfonso Malato.